ragazzi ciao sono la patti oggi sono qua per una cosa molto molto semplice ma che voglio recuperare questa maglia si è macchiata io uso un sacco di materiale che ovviamente rovina gli indumenti quindi io poi nel mio laboratorio uso proprio abiti che io gli chiamo gli abiti da lavoro però a volte mi dispiace rovinarli no quindi anche questa maglia che io ho sfruttato e sfrutto tantissimo anche per portare giù il mio pelosino a queste macchie queste macchie sono le macchie del dell'acee l'acee io l'ho sempre chiamata colegrina non so se è il termine giusto comunque l'acee è quel materiale liquido che viene usato per lavare gli indumenti per farli diventare un po più bianchi bene io cosa farò oggi vi farò vedere una cosa molto semplice per non buttarla io farò lo stencil lo stencil non è altro che queste mascherine chiamate così che possono essere in plastica dura in carta possono essere più spesse meno spesse sono però ritagliate in maniera precisa c'è anche una penna che fa il ritaglio comunque questo è lo stencil ce ne sono ovviamente di varie misure forme e io adesso stavo pensando se farne una con la mia africa la mia africa grande la mia africa ci sono stata un sacco di tempo oppure semplicemente dei dirigori così semplici senza troppe pretese uno di qua uno qua fatti proprio così io adesso utilizzerò questo oppure al momento farò questo vedrò ovviamente come si deve procedere si deve mettere sotto del legno io ho messo questa specie di lastre in legno ovviamente poi bisognerà aspettare il tempo per asciugare il lavoro sotto al pezzo metterò della stoffa per far sì che possa assorbire l'eccedenza quello che magari è troppo allora questa questa pace io l'ho messa in una boccettina come questa a spruzzo perché così faccio proprio dei puntini quindi come procedo metto il mio stencil dove io appunto ho le macchie quindi qua tiro bene la mia stoffa sarebbe bene scocciare lo stencil con un po' di carta cartanastro come lo chiamo io poi sarebbe anche ottimo coprire tutta la parte dove vorrei che non andasse il mio la mia ace la mia collegherina quindi copro tutte queste parti anche semplicemente con dello scotex con della io adesso mi sono improvvisata perché stamattina mi sono accorta che ferrano queste macchine mi ha dato dispiacere perdere questa maglia quindi adesso io farò una cosa molto semplice voi ovviamente come dico le mie allieve in presenza fate quello che vi dico e non quello che faccio cosa vuol dire che quello che io vi consiglio è mettere un cartoncino tutto bello preciso scocciato perché ovviamente così sta fermo e non stoffa scotex io adesso lo faccio perché a me non mi interessa più di tanto io vi voglio far vedere come potrebbe venire un recupero di una maglia ora per non insultare le tecniche come il kintsugi il kintsugi è un recupero di un pezzo che ovviamente se non fosse stato recuperato sarebbe stato perso però non voglio ovviamente discriminare non discriminare chiedo scusa buttar giù una tecnica millenaria la mia considerazione è che se si può risolvere un problema recuperandolo perché no io adesso spruzzo con questo che l'ace ok spruzzo devo avere un attimo di tempo però per far sì che questo questa ace possa essere più vediamo a largo qui non vedo nulla aspettate scusate ritorno un po così i video io non li amo infatti ecco perché non ne faccio tantissimi preferisco la presenza perché sono andata già fuori campo comunque questo adesso faccio un ingrandimento quindi sposto ancora e procedo procedo sta già cambiando un po il colore voi non so se lo vedete ma adesso vi farò vedere nel momento in cui toglierò la mascherina asciugherò un attimino quello che è l'eccedenza e in due nani secondi ho fatto ovviamente uno stencil questo è un colore molto più chiaro rispetto a quelle macchie che vedete ma date il tempo al prodotto che si deve veramente aprire nel senso che deve lavorare ancora io adesso ne farò ancora una qua che ce ne sono altre le macchie e io questa maglia la userò tranquillamente per andare a portare giù il mio peloso per dipingere per tutto quello che mi viene comodo quindi la dovete poi lasciare così dopo un paio d'ore il prodotto continua e adesso ho annodato la stessa maglia quella che ho fatto perché è troppo chiara sotto e faccio con la stessa procedura quindi con qua l'ace spruzzo sulla parte che ho annodato perché voglio anche qua un po' di macchie in modo che risulterà poi voluto un effetto voluto non casuale ok quindi tra un po vi farò vedere comunque il risultato si può già intravedere questo è il recupero ciao ragazzi ciao io faccio piccoli pezzetti e poi li faccio assemblare ma io non sono brava quindi ve lo dico sempre allora il lavoro finito di quella maglia che io ho cercato di recuperare è questo spero che possa servire di idea come idea e che possa servire come spunto questa la sfrutterò ancora e va bene così quindi ragazzi è stato un piacere spero che il tutto possa esservi stato d'aiuto alla prossima farò un altro piccolo video su maglie bianche normali sempre però con lo stensi seguitemi su patrizia art school e comunicatemi con un like oppure con un vostro commento spero in positivo ciao